Mettere in campo una rete di ospitalità diffusa dei comuni dell'ambito sociale 6 e coordinare le operazioni di accoglienza è questo l'obiettivo che si sta cercando di perseguire attraverso incontri e tavoli di coordinamento come quello costituito nei giorni scorsi dal comune di Fano. E' tornata a riunirsi anche l'OSES, l'unità operativa che comprende l'ambito fanese, quello di Fossombrone e il distretto sanitario, alla presenza di Eugenio Carlotti e Augusto Oliverani, rispettivamente direttore del Dipartimento di Prevenzione Asur e direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. E' necessario infatti un tracciamento dei profughi che raggiungono i nostri territori per tutti gli accertamenti anti-Covid, attivato anche il tavolo immigrazione che comprende diverse figure ed esperti del settore come educatori per aiutare i bambini e un mediatore linguistico per agevolare la comunicazione con gli ucraini che non comprendono l'italiano. Sindaco, siete a lavoro per gestire l'accoglienza dei profughi, ci sono stati degli incontri nelle scorse ore anche con la Prefettura? Sì, ma intanto riaffermo questa cabina di regia che è un momento importante, serve per coordinare e non disperdere energie. Poi devo dire che c'è la città, il territorio sta rispondendo con grande sensibilità, tantissime persone, tantissime associazioni in queste ore si stanno adoperando per aiutare con le varie forme. Però anche su questo ci tengo a sottolineare, non disperdiamo energie, facciamo quello che serve perché il rischio è che poi magari raccogliamo più cose che non servono e vanno disperse. È un delitto sul delitto. Poi devo dire grazie veramente a tante persone che sono resi disponibili a prendere la propria casa, ospitando dei bambini, delle persone, delle mamme che sono arrivati. Questo tocca il cuore, devo dire, è stata una disponibilità anche non attesa e questa è la parte bella della nostra città e come sindaco lasciatemelo dire e lasciatemi ringraziare. L'importante, ha proseguito il sindaco, è continuare perché questa crisi non è destinata a terminare nel breve periodo. Intanto la cabina di regia e il rapporto con la Prefettura stanno dando i primi risultati. Abbiamo già raccolto delle disponibilità per raccogliere la nostra città, ci sono già a disposizione dal San Paterniano, che era l'alloggio dove in passato si ospitavano persone senza tetto, la comunità del Don Orione, quindi già una trentina di posti solo nella nostra città, più quelli private delle famiglie. Poi c'è una collaborazione, un patto di collaborazione tra l'ambito sociale, perché l'ambito è cui devo ringraziare l'assessore Tinti che coordina il lavoro. Ci è fatto questo patto di coprogettazione con il terzo settore, con l'ambito, proprio per coordinare anche ulteriori posti a disposizione per raccoglierli. Ovviamente è solo l'inizio perché le esigenze andranno sempre più ad aumentare. Non scordiamoci che l'Italia avrà il 13% delle quote dei frofughi che la guerra produrrà. Dalle previsioni si pensa a alcuni milioni, circa 4 milioni, quindi ovviamente anche noi dovremo fare la nostra parte.